Niente da fare, nemmeno quest'anno la Francia crescerà quanto basta per erodere il numero di disoccupati. Quel punto e mezzo percentuale di espansione del PIL necessario resterà fuori dalla portata del presidente François Hollande, che pure aveva scommesso tutte le sue carte proprio sull'occupazione. Ma è di questi giorni la notizia che Parigi, dopo le manifestazioni di piazza, ha fatto parziale marcia indietro sulla riforma del diritto del lavoro. Il governatore della Banca Centrale, Villeroa de Galo, ha detto in un'intervista che la Francia crescerà un po' meno della media della zona euro, il più 1,4%.